Beshir El Brahmi, questo è il nome del secondo pusher che la sera dell'11 marzo 2017 si sarebbe trovato all'interno della villetta di Cesa con Sarah Smae, la 19enne di origini marocchine ma residente a Sansepolcro, stroncata da un mix letale di droghe ed antidepressivi. L'uomo, un tunesino di 31 anni, è stato infatti individuato, adesso è ricercato su tutto il territorio nazionale ma si è reso latitante. Il giovane, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti e morte in conseguenza di un altro reato, il prossimo 11 giugno dovrebbe comparire in tribunale ad Arezzo. Il tunesino era il fidanzato di Sarah, quella drammatica notte nella villetta di Cesa assieme alla coppia si trovava anche un 22enne marocchino per trascorrere il weekend. La giovane si sentì male e i due scapparono, la ragazza venne poi ritrovata senza vita, nuda, riversa sopra il letto dal proprietario dell'alloggio. Nessuno quella notte chiamò i soccorsi. Uno dei due pusher poco dopo venne rintracciato ed arrestato, è stato poi condannato ad otto anni di reclusione per morte in conseguenza di un altro reato e spaccio di sostanze stupefacenti, più una multa di 18 mila euro e un maxi risarcimento in via provvisionale di 400 mila euro ai familiari della 19enne. Il prossimo 11 giugno dunque la drammatica vicenda tornerà nelle aule di un tribunale, l'udienza però potrebbe ovviamente saltare nel caso in cui il 31enne, ad oggi latitante, non dovesse presentarsi.